Se ne va via un amico e io propongo al sindaco, all'assessore, al direttore, all'altra direzione che se l'ospedale, così come un impegno che è stato preso da parte del direttore generale si farà, venga intitolato a Roberto Fagnano. Il sindaco emerito Maurizio Brucchi, medico all'ospedale Mazzini di Teramo e amico personale di Fagnano, ha proposto di intitolare l'ospedale nuovo che si farà proprio a Roberto Fagnano. Ma io credo che sia un atto doveroso, non tocca a me, io l'ho proposto, toccherà alle istituzioni, al sindaco, al direttore generale, alla regione. Insomma io va via un amico, un grande amico, perché Roberto più che un rapporto tra sindaco e direttore generale, o tra medico e direttore generale, è un rapporto di amicizia. Noi ci vedevamo quasi tutti martedì, era una persona molto attenta a tutto, molto attenta anche all'alimentazione, una persona che non aveva, come dire, situazioni che potessero far pensare a questo. Quindi davvero va via un grande amico, io anche sull'ospedale invito tutti a riflettere. Era diventato il suo cruccio negli ultimi mesi, perché lui lo voleva fortemente. E mi diceva sempre, ma vedi Maurizio, alla fine a che mi importa? Io potrei anche pensare ad altro, invece voglio fare questo nuovo ospedale, perché Teramo ha bisogno di questo nuovo ospedale e Teramo ha bisogno di un nuovo ospedale. Quindi forse anche quello che è accaduto deve essere anche un momento di riflessione per questa città e pensare davvero a quelle che sono le cose di cui la città ha bisogno, lasciando perdere le contrapposizioni. Io credo che non sia più tempo, l'ho detto in altre occasioni, ma lo voglio ribadire. In questo lo dico stando al di fuori in questo momento della politica. Non c'è bisogno di contrapposizione, c'è bisogno di collaborazione per una città. L'ospedale nuovo va fatto, chi lo vive lo sa che ci vuole un nuovo ospedale, che questo non può essere recuperato, non può essere ristrutturato. Lo dico io che ci vivo tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Davvero, non ho parole, non ci credo ancora che possa essere accaduta una cosa del genere. Una grande persona a Teramo, sono certo lo ricorderà come un grande amministratore, una persona che seppure molisana voleva bene a Teramo.